Il Tremuschettiere sarà interpretato da una compagnia di ragazzi, che è la compagnia dei giovani della scuola di Oltresipario di Edoardo Frustaci. Loro sono una compagnia di giovani, tra le poche che ci sono, girano con gli spettacoli e quest'anno per la prima volta si esibiranno in un'arena così grande. Quindi vi aspettiamo numerosi all'arena BCC e alle 21 con le Tremuschettiere. Una parodia comica, molto divertente. È vero che è fatta da ragazzi, ma è per un pubblico adulto anche. Molto divertente, proprio sulla storia di D'Artagnano e dei Tremuschettiere, che in realtà saranno le Tremuschettiere. Quindi ci vediamo giovedì, il prezzo del biglietto è di 5 euro, diamo una mano a questi ragazzi a decollare sui palchi, perché per la prima volta si esibiranno su un palco così grande come la BCC Arena. E abbiamo bisogno di una cosa, il pubblico.